Ho trovato la bambina, era un buono locale orribile, sporca, in mezzo a te i giocattoli, dei biscotti, mi ha fatto una pena pazzesca, mi guardava, non diceva nulla, mi fissava, pensavo fosse andato lì a salvarla, ma non era andato lì a salvarla, mentre mi avvicinavo con questo straccio a soffogarla, pensando a mia figlia, e quindi ho preso la bambina in braccia e l'ho portata via, poi ho chiamato la polizia e ho detto che l'avevo trovata, e tuo figlio, mentre andavo verso l'ospedale, mi sono detto, adesso mi siete accanto a lui, e morirà tra le mie braccia, ma non è andato così, il cancro è sparito, non in remissione, sparito, miracolo. Sono contento per te, Luigi, ma io non ho fatto quello che dovevo. Non ti ho detto che sarebbe morto se non l'avessi fatto. Eh? Cosa? Ho quasi ammazzato una bambina perché me l'hai chiesto tu. L'hai fatto per te. Ricordatelo sempre. Sei un mostro. Diciamo che tu hai da mangiare ai mostri. Grazie. Grazie. Grazie.